Tre visite urgenti, tre persone diverse, tre patologie differenti e per tutti la stessa risposta. Vi faremo sapere. Una famiglia di Bassano ci contatta perché dal CUP dell'ULS7 non arrivano notizie e loro, ripetiamo, tre persone diverse con tre patologie differenti hanno bisogno di controlli urgenti. Controlli che il medico aveva fissato entro 30 giorni e invece per questioni diverse io, mia moglie e mio figlio abbiamo da fare tre visite in ospedale per tre patologie diverse. Tutte e tre fatalità la dottoressa ha chiesto di farle entro 30 giorni, quindi entro un mese. Abbiamo chiamato mia moglie che lei si occupa di prenotare le visite in tempi diversi, ha chiamato per prenotare queste e tutte e tre, ripeto, che rivestono carattere d'urgenza. Noi abbiamo avuto su tre visite manco una o una data, tutte chiameremo, telefoneremo, eccetera, faremo sapere. Non stiamo parlando di visite da 60-90 giorni, quindi possono essere anche come dire, vabbè, non c'è fretta, ma questi insomma rivestono un po' di urgenza. Quando il medico di base dice devi farla entro un mese significa che vuole capire in fretta che cosa hai e questi niente insomma. Un problema, anzi tre problemi, che si aggiungono alla pioggia di segnalazioni e di problematiche che da mesi stanno affliggendo i pazienti dell'Ulss 7. Una testimonianza, quella riportata dal nostro telespettatore, che è di per sé il perfetto, anzi l'imperfetto riassunto della situazione. I cittadini chiedono e l'Ulss non risponde.